Musica 66 kg Gunther Parpinel della società Golpes del Mundo E' Vincenzo Fico Della Fighters Camp Lotta San Giorgio E' Vincenzo Fico Sopo 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 come il corpo il morto E' un giù, E' un giù, E' un giù! Pam, pam, pam! Ma che? Tantino, tantino! Viene! E' un giù! E' un giù! E' un giù, E' un giù! E' un giù, E' un giù! E' un giù, è un giù! Grazie a tutti. 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 Ti sorridono anche gli occhi. Ringrazio tutti i miei allenatori, tutti quelli che sono venuti a vedermi. E insomma ragazzi, spacchiamo.